E' stata una notte in sonno ma soprattutto è stata una notte di paura sulla strada che da Cireggio va alle Quarne. Una frana davvero di enormi proporzioni si è abbattuta lungo la strada provinciale, tra l'altro è andata verso Cireggio, verso Pontebria. Momenti di paura, di apprensione appunto con tanti e tanti timori e adesso è una situazione che è davvero critica, Sindaco. Sì, veramente il nubifragio di ieri si è stato fortissimo e ha creato questa frana importante, una brutta frana. Al momento la strada è libera perché durante la notte è un'impresa con il supporto anche dei vigili del fuoco e dei carabinieri, abbiamo liberato l'arteria. Al momento la strada è aperta ma nel pomeriggio verranno procedenati degli New Jersey e la strada sarà a senso unico alternato. Sarà chiusa in caso di pioggia, sarà chiusa di notte e anche durante la giornata ci sarà una guardiania. Questo fino a che ci saranno i primi interventi domani e dopodomani. Altre interventi che si prevede saranno anche abbastanza costosi. La provincia sappiamo che purtroppo, come tutti gli enti in questo momento, ha anche problemi economici non da poco. È stato calcolato che ci vorranno quanti? 250-300 mila euro per gli interventi? Ma è un discorso che in questo momento non voglio proprio affrontare, a me il problema economico in questo momento non mi interessa. Noi dobbiamo mettere in sicurezza questa strada, io ho la gente che abitiamo in montagna e vogliamo la strada sicura. Poi i soldi ci sono e vanno trovati. Queste sono parole importanti. Intanto possiamo vedere il fronte franoso che è davvero impressionante perché è per un'altezza di 150 metri dalla strada e un altro 150 metri, forse di più, anche sotto la strada. La frana, l'enorme massa di detriti e di sassi che è venuta giù, ha portato via più di 50, una cinquantina di metri anche di guarrail, per cui insomma anche la sicurezza è quello che è. Sindaco, questo è diventato anche il momento, insomma, un po' di fare non solamente il punto, ma anche di essere preoccupati. Tra l'altro voi a Quarnasotto avete avuto anche dei disagi interni alla strada? Uno smottamento su una strada comunale e un rio intasato, però poca cosa in confronto a questa è già risolta. La provincia sono saliti, sono venuti su tutti a vedere, adesso ci aspettiamo che in un modo o nell'altro facciano veramente qualcosa questa volta. Li avevo già avvisati dieci giorni fa che le reti paramassi dovevano essere, non avvisati, avevo già ricordato che le reti paramassi dovevano essere oggetto di manutenzione e di verifica. Questa notte ne hanno portati via un centinaio di metri la frana.